segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te promuovi o lo bocci io lo promuovo e ti faccio una domanda lui si chiama giacomo io mi chiamo alfonso di cognome bremer secondo te è un caso non voglio la risposta allora bremer era un giocatore del toro che adesso ha cambiato squadra ha smesso di giocare gioco secondo te è un caso che si chiama alfonso bremer ti faccio questo a cioè tu hai imposto il cognome non impongo niente in un'altra serie quella con lì lo faccio uno che si chiama sergio locatelli è un caso lascio questa domanda a leggere a leggere guarda ne farai uno dove ti chiamerai da pata così diventerai del toro anche allora quando mi alzo in piedi sapete che che arriva il momento della della buonanotte stasera però non la metti via perché poi dopo abbiamo ancora un altro